Grazie a lei. È un professore ordinario di fisica tecnica ambientale dal 2011 presto l'Università di Palermo, la sua attività scientifica prevalentemente orientata verso tematiche di interesse energetico ambientale, con riferimento in particolare all'efficienza energetica degli edifici, delle tecnologie alimentate da fonti rinnovabili di energia e alle strategie di decarbonizzazione dei sistemi e dei processi. È stato nella sua lunga carriera coordinatore di numerosi progetti di ricerca nazionali e europei su tematiche energetico ambientali. Da gennaio 2022 è delegato dell'Università di Palermo alle attività delle reti delle università per lo sviluppo sostenibile. Dal febbraio 2022 è direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica dell'Ateneo di Palermo. Da giugno 2022 è coordinatore del dottorato di ricerca associato in transizione ecologica, istituito dall'Università di Palermo e dall'Università di Messina. Da ottobre è membro del panel di esperti che sta redigendo il report sul Climate Water Energy Food Ecosystem Nexus per conto del Mediterranean Expert on Climate and Environmental Change. È autore di circa 390 tra pubblicazioni nazionali e internazionali. Professore, io la ringrazio per essere qua con noi. Ricordo a tutti che alla fine dell'esposizione potrete prenotarvi per le domande nella chat. Grazie mille. Ne lascio subito la parola. Bene, grazie. Grazie. Vi ringrazio per l'opportunità di raccontare un po' di queste tematiche, queste attività di divulgazione. Vorrei partire, vediamo se riesco a scorrere così, no? Proviamo così, ecco, perfetto. Innanzitutto permettetevi di introdurre velocemente cos'è il Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica. Una delle peculiarità di questo centro è che sostanzialmente è un luogo dove scienziati con background diverso, formazione diversa, skill diversi, linguaggi diversi, convergono per cercare di venire catalizzatori di politiche e visioni del nostro Ateneo, anche nel rapporto col territorio, quindi come un'attività di terza missione, come si dice adesso, con attività di socializzazione col territorio, perché si è un poco evoluto come concetto, e questo in tutti, un poco tutti i settori, ricerca, terza missione, come dicevo, e anche didattica. La peculiarità, dicevo, che questo centro ha al suo interno tutta una serie di rappresentanti per ogni singolo obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Sono 17, come certamente è noto. Ricordo a tutti, e faccio questa brevissima premessa, che questo percorso che ha condotto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU è abbastanza complesso e articolato, parte moltissimi anni fa, nei primi anni 70, con i primi vagiti di sostenibilità, se posso dire così, con la conferenza di Stoccolma. 20 anni dopo, alla conferenza di Rio, fu per la prima volta firmato il Trattato della Biodiversità, purtroppo con la mancata rettifica da parte degli Stati Uniti, e questo ha comportato non pochi ritardi. Nel 2012, finalmente, diciamo, il cerchio si chiude, 30 anni dopo, e l'ONU decide di scendere in campo pesantemente, cioè in positivo, lo dico, non pesantemente in negativo, diciamo, decide di divenire attore principale di sostenibilità e transizione ecologica, e lo fa coniando questi 17 obiettivi che finalmente furono adottati nel 2015. I 17 obiettivi sono molto variegati e molto, in teoria, diversi tra loro, ma in realtà profondamente interconnessi. Questo è un po' quel quadro che ci guida e che ci muove in questa attività articolata che cerchiamo di svolgere, e quindi, se volessimo sintetizzare, questi sono gli obiettivi principali, ovviamente non sono esaustivi, quindi soluzioni e strategie partecipate condivise mirate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, attivare percorsi di transizione ecologica, identificare azioni che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e la creazione di un approccio integrato e co-sostenibile nella formazione e nella terza missione. Questo è un po' quel quadro nel quale ci muoviamo. Andiamo all'energia, che poi diciamo che probabilmente è la parte più robusta del mio background, visto che sono un energetico, un fisico-tecnico. L'accordo di Parigi fu visto come un accordo straordinario, in teoria lo era se, diciamo, non avesse subito i rallentamenti che in questi anni ha subito. Perché l'idea di poter raggiungere un agreement che permettesse di mantenere l'aumento di temperatura entro 1,5 gradi rispetto a livelli preindustriali era un grande risultato, in teoria. E vediamo stanziate tantissime risorse, era fondamentale la cooperazione. Sapete che altre coppe, altre conferenze delle parti in questi anni si sono succedute, ma quando Gutierrez, presidente dell'ONU, dice che siamo oramai assimilabili ad un'auto in corsa che cammina a fare spenti a 200 all'ora in autostrada, penso che sia chiaro come l'umanità è in un momento molto particolare nella sua storia, perché le emergenze climatiche rischiano di mettere in crisi il modello socio-culturale che abbiamo costruito con fatica in questi anni. Quindi è un rischio molto significativo rispetto al quale un po' tutti abbiamo responsabilità. Quello che vedete sono le emissioni di gas serra e miliardi di tonnellate il CO2 equivalente hanno, che caratterizzano i paesi più industrializzati e i paesi meno industrializzati. Cioè è chiaro che i paesi industrializzati devono fare uno sforzo enorme, mentre i paesi in via di sviluppo hanno in questo momento un trend, diciamo una consistenza inferiore, ma che certamente sono in crescita. Ora qua vanno, come dire, chiarite con forza alcuni aspetti. La linea nera che vedete è quella del mondo nella sua interezza, la linea rossa è quella delle nazioni più industrializzate, la linea ciano-black, chiamiamolo come vogliamo, è quella dei paesi emergenti. Qualcuno potrebbe dire, ma le nazioni in via di sviluppo, come si chiamavano una volta, presentano un quadro di emissioni di gas e climasteranti in forte crescita. E questo trend non si arresterà, anzi è previsto in forte crescita. Al contrario, le nazioni più industrializzate hanno già abbattuto di circa il 30% al 2020 rispetto al 1990. Si attende una netta contrazione di queste emissioni al 2050. Sapete che l'Unione Europea in questo è assolutamente apripista, tant'è che al 2050 ci si attende un continente interamente decarbonizzato. E il New Green Deal è uno degli elementi più importanti e più significativi in termini di politiche che l'Unione Europea si è potuta dare in questi anni. Anzi, certamente questa Commissione Europea ha rappresentato un punto di svolta. L'Unione Europea ha sempre fatto da apripista in termini di politiche ambientali, ma il New Green Deal è stato veramente una pietra miliare. A guardare questo grafico potrebbe dire, ma allora la responsabilità dei paesi in via di sviluppo? Mi sento di confutare questa affermazione subito, perché se guardate alla storia dei gas climalteranti, delle emissioni dei gas climalteranti, scopriremo che larga parte è tutta riconducibile a, diciamo, Stati Uniti e Unione Europea. Dove è nata la rivoluzione industriale e poi via via. Quindi, se parlassimo di giustizia climatica, non potremmo non tener conto del fatto che c'è un trend di emissioni di gas climalteranti emesse che ci ha portato a questa condizione certamente difficile, e rispetto alla quale chi le ha generate non può lavarsi le mani. Per cui, che le nazioni emergenti cerchino di emulare taluni modelli di sviluppo è più che naturale. Il punto è interrogarsi se questi modelli di sviluppo sono quelli corretti. perché da più parti emerge con chiarezza una visione alternativa che dice, fin quando il capitalismo aveva un modello alternativo, aveva una grande capacità progettuale, sognava, taluni dicono, perché chiaramente aveva un competitor. Quando il competitor è crollato, per i motivi ben noti, a quel punto lì si è affermato probabilmente un capitalismo rapace, eccessivamente fondato su questo approccio di PIL, o di GNP, se lo diciamo con acronimo anglosassone, e pensare che forme di capitalismo così inique come quelle che attraversano una larga parte del nostro continente, si pensi a quello che accade in Asia, possano, diciamo, essere risolte facilmente, è un poco difficile. Per cui, per chiudere con questa slide, non può sorprendere che nel modello di sviluppo che ancora oggi è imperante, le nazioni di via di sviluppo desiderino crescere per raggiungere target e standard simili ai nostri. Mi pare altrettanto evidente che non abbiamo nel tempo, nella possibilità di attendere tempi tali da consentire la naturale decrescita delle emissioni di gas e clima alteranti di cui vediamo nel grafico, non abbiamo ancora neanche raggiunto il picco, quindi evidentemente dobbiamo imboccare nuovi percorsi rispetto ai quali dobbiamo provare a fare qualcosa. Questo è un poco il quadro. Quindi, il mondo deve calare al 50%, le nazioni più evolute dell'85% e sono obiettivi straordinariamente ambiziosi. Ora, un'altra cosa che va rilevato, e anche questa abbastanza inquietante, è che in questo trend che io molto sinteticamente ho delineato all'inizio delle mie slide, partendo dai primi anni 70, quando per la prima volta, lo ricordo, si mise in discussione questo modello di crescita che, in maniera, come dire, da un lato ingenua, se così vogliamo dire, dall'altro assolutamente miope, si pensava potesse essere una crescita senza limiti, da quel momento, come vedete, l'annuamento, il trend delle emissioni di gas e clima alteranti è cresciuto senza treco. Questo vuol dire che, nonostante le politiche e le strategie siano profondamente mutate, però, a livello globale, qua il trend è veramente inquietante. Siamo oramai nei 14, 400, se non di più, parti per milione. Anche lì, a lungo, si è cercato di mistificare questa grande crescita, dicendo che, in realtà, la crescita delle emissioni di gas e clima alteranti aveva subito andamenti ciclici, perché con le nuove tecniche di prelievo dei ghiacci sepolti in luoghi remoti da secoli e secoli, si è scoperto che, in realtà, questo livello di concentrazione di CO2 nell'atmosfera non c'è mai stato. Quindi, diciamo, che l'azione sia fondamentalmente di natura antropogenica è così, è un fatto, e questo fatto probabilmente ci può condurre verso scenari che non conosciamo, perché in passato non vi sono mai stati. e questo è forse uno dei temi più di maggiore rischio, perché l'emergenza climatica è un rischio anche in relazione ai dubbi che possono nascere da una risposta complessa che può accadere in maniera cataclismatica. Per anni si è sempre discusso che il battito tali di farfalla a Hong Kong poteva generare un cataclismo a New York, fu un tormentone di qualche anno fa. In realtà nei sistemi complessi le risposte non sono lineari e quindi quello che vedete come crescita lineare potrebbe indurre se si avvereranno o accadranno certe condizioni che, diciamo, l'equilibrio climatico del nostro pianeta può essere fortemente a rischio. Questo è un poco il quadro. Quindi da qua al 2050 al 2100 ci si attende che vi sia una forte crescita di contribuzione di alcune parti del pianeta attualmente in ritardo di sviluppo e altre che invece andranno verso una sostanziale stabilizzazione o un declino delle emissioni di gasse climalteranti. Anche qua però va aperta una parentesi perché questa delocalizzazione massiccia a cui abbiamo assistito di imprese produttive negli ultimi anni praticamente sta generando qualche fenomeno che è bene sottolineare. Cioè se da un lato è indubbio che il quadro europeo di manifattura complessiva vedo oramai un'incidenza in termini di emissioni percentuali dei gas climalteranti paragonata al resto del pianeta non tra le più significative se invece consideriamo le reali emissioni di gas climalteranti generate dalla filiera di valore indotte indotta dalla domanda di beni che avvengono nelle parti più ricche del pianeta non è così. In altre parole non basta essere un'isola verde se lo si diviene esportando il tessuto produttivo altrove. Questo è uno dei temi il cosiddetto back reshoring di cui si sta a lungo parlando in parte perché la globalizzazione anche alla luce della guerra russo-ucraina di questi nuovi poli regionali se riguardiamo a scala globale stanno rimettendo in discussione un poco tutto il modello. In secondo luogo perché evidentemente la possibilità di far ritornare certa parte di tessuto produttivo e riconvertirlo in maniera ecoorientata cioè riducendo le emissioni di gas climalteranti e più in generale impronta ambientale di monofatti e servizi nel contesto europeo riaccogliendo certi tessuti produttivi che in questi anni sono stati persi per evidenti motivi di come dire scarsa competizione in termini di monopera è un tema che va riaffrontato quindi non illudiamoci che quelle emissioni cioè quelle dirette tra virgolette siano esaustive c'è una fortissima parte di emissioni che è indotta dalla nostra domanda e quindi evidentemente questo pone un problema serio di scenari di consumo proprio oggi avevamo una conferenza oggi abbiamo presentato il forum regionale di sostenibilità e transizione ecologica che parte con l'ambizione di creare dei punti di vista condivisi tra i possibili stakeholder su cos'è la transizione ecologica e come si possono governare problemi complessi e durante questa discussione emergeva come il ruolo della produzione sarà fondamentale ma forse bisogna anche pensare a modi diversi di intendere la produzione a cominciare dal fatto che tutti parlano di economia circolare ma a larga parte di coloro che parlano di economia circolare intendono l'economia circolare come l'economia del riciclo non è così non nasce in questo modo l'economia circolare nasce anzitutto con un brain un modo di pensare in maniera alternativa al prodotto al manufatto al servizio che va concepito riducendo degli impatti ambientali fin dal primo colpo di matita che oramai è simbolico visto che non siamo più in matita ma diciamo e quando concepisci l'oggetto al servizio anche il modo di governare l'oggetto il car sharing la condivisione modelli alternativi lì già si può fare moltissimo e poi si va avanti perché molti parlano oramai di allungare la vita utile a crescere la durabilità creare un modello produttivo fondato sulla manutenzione e così via non è solo riciclo questo non vuol dire che il riciclo non è importante perché il riciclo ci consentirà di avere un largo ammontare di materie prime seconde che attualmente importiamo tutte dall'estero si pensi a cosa comporterà il riciclaggio delle batterie elettriche di auto nei prossimi anni ma è bene dire che è un modello alternativo è un modello che può anche ripensare a nuove forme di consumo ed anche di gestione di beni e servizi questo è un po' che è il quadro spero che sia espresso con chiarezza quello che volevo dire anche perché questi sono numeri diciamo della FAO entro il 2050 anche a causa della crescita della popolazione più 80% di energia più 55% di acqua e più 60% di cibo sono dati e numeri che un poco fanno tremare i polsi lì entra in gioco un altro dei nuovi concetti che sta emergendo in questi anni ed è il nesso il nesso water energy food ecosystem cioè acqua energia cibo ed ecosistemi che è un nesso estremamente importante che va colto perché vi è un forte vi è una forte interdipendenza tra tutti questi aspetti e governare la complessità vuol dire anche cogliere i nessi e le interconnessioni posso fare decine di esempi diciamo c'è un problema di crisi idrica magari possiamo dissalare ma se dissaliamo con fonti fossili tradizionali l'impronta di carbonio di quell'acqua cresce moltissimo se invece lo facciamo ricorrendo a tecnologia alimentata da fonti rinnovabili questo scenario muta e così come quando pensiamo all'agricoltura di precisione a un uso limitato allo stretto sufficiente di fertilizzanti o di fitofarmici se abbiamo forma di agricoltura tradizionale di precisione ma possiamo anche avere agricolture biologiche che magari fanno molto meno uso di fertilizzanti chimici e di fitofarmici o addirittura non li usano proprio e magari possiamo ripartire da una forte regionalizzazione dei cibi quindi riducendo il circobardum di questi cibi che vengono prodotti in un luogo sono impaccati dalla grande distribuzione in un altro poi vengono consumati in un altro ancora pensate quanto può incidere in termini di impronta ambientale questo tipo di percorso e processo quindi sono tutte sfide in atto dove ritengo che la ricerca e le università dovranno svolgere un ruolo cruciale anche perché non scordiamoci che la buona notizia è che la sensibilità dei più giovani nei confronti delle tematiche ambientali è fortemente in crescita ma c'è anche il rovescio della medaglia cioè i più giovani pur avendo una formidabile consapevolezza che la sfida ambientale è probabilmente una delle più cruciali per il loro futuro di converso hanno anche una forte sfiducia nelle istituzioni in termini di capacità di risposta a queste emergenze e questo anche a causa di informazioni frammentarie inefficienti e insufficienti e in questo la formazione quindi la scuola e l'università e la ricerca dovranno svolgere un ruolo fondamentale per come dire accrescere la consapevolezza sulle questioni energetico-ambientale da parte dei più giovani questo è un tema cruciale perché lì si gioca un po' dopo la sfida che abbiamo in corso quindi questi scenari sono oramai sempre più presenti noi poi viviamo in Sicilia in una condizione di terra di frontiera pensate a Lampedusa pensate a Arcana di Sicilia ed non è l'unica rotta cioè sono fortissimi fenomeni migratori che cresceranno ancora di più alla luce di queste situazioni che si stanno delineando prima fra tutti il fatto che le emergenze climatiche spesso avvengono nei luoghi dove quelle popolazioni quelle culture quelle società hanno contribuito pochissimo a generare gas climalteranti e c'è un forte problema di giustizia climatica perché chi meno ha creato il problema adesso si ritrova a doverlo fronteggiare con maggiore virulenza se posso usare questa espressione ora questo dato da solo dice moltissimo cioè distribuisce le emissioni di gas climalteranti e quindi si vede quanto arriva alla deforestazione del land use che è circa l'11% quanto dai processi industriali e anche lì mi pare abbastanza evidente che un modello di crescita senza tregua è probabilmente la causa preponderante di questa situazione di emissioni antropogeniche perché due terzi circa delle emissioni di gas climalteranti totali sono riconducibili ai beni e alla produzione di cibo e alla distribuzione parlavo prima del Green Deal europeo che è veramente ammirabile sotto certi punti di vista e che in fondo lancia molte delle cose che io ho detto perché quando si parla di un sistema alimentare cosano e rispettoso dell'ambiente al produttore al consumatore e noi in questione italiani dobbiamo avere grandissima consapevolezza con la dieta mediterranea che è un mirabile esempio di come si possa preservare l'ambiente e far bene alla salute perché poi un altro concetto che sta emergendo con forza è il cosiddetto healthy planet cioè la salute del cittadino che è inquadrata in un contesto di salute ambientale complessiva dell'ecosistema dove vive questo è un altro concetto che oramai si è affermato perché non è importante solo la salute degli individui ma anche la salute della navicella dove siamo ospitati e poi potrei fare mille altri esempi della mobilità sostenibile e così via ma desidero sottolineare che è in ble qua sotto voi trovate due aspetti che io considero molto importanti il primo è che la transizione parte dall'idea che non bisogna lasciare indietro nessuno live non one behind è uno dei temi che più diciamo un paradigma ispiratore anche l'agenda ONU 2030 il secondo è che la transizione va finanziata e questo è un altro delle sfide cioè come riusciamo a finanziarla quindi non v'è dubbio che nel nostro secolo questo secolo avremo come obiettivi prioritari questi aspetti di converso dobbiamo capire come riuscire a trovare la quadra lo dico molto semplicemente e per trovare la quadra bisogna anzitutto comprendere quale può essere un percorso di transizione energetica ed anche ecologica che possa mettere insieme cose che apparentemente sembrano molto distanti tra di loro e per tornare all'agenda ONU abbiamo 17 obiettivi 169 target oltre 240 indicatori e nella visione integrata dello sviluppo sostenibile abbiamo quattro pilastri cioè ormai c'è piena consapevolezza che il problema non è solo ambientale cioè economia società ambiente istituzione d'altra parte se guardate per esempio l'obiettivo 16 pace e giustizia istituzioni solide è un tema che in Italia è molto importante soprattutto nelle regioni del mezzogiorno oggi per esempio durante questa sperimentazione c'era una impresa innovativa di spin off che si occupava di dare una prima occupazione a coloro che avevano diciamo la prima esperienza di reato e lo facevano in contesto green e di agricoltura sostenibile e pensavo proprio questo guarda questo è un esempio nel quale il nesso water energy food ecosystem viene declinato anche con l'obiettivo pace e giustizia istituzioni solide ora questi sono numeri e l'energia gioco un ruolo cruciale perché il 73,2% delle emissioni di gas climalteranti è riconducibile all'energia l'energia che pervade ogni tipo di attività e quindi questa è una scommessa qua vedete alcuni dati che sono anche abbastanza interessanti cioè quanto in generale iron e steel quindi acciaio e così via i chemical i petrochemical i trasporti e così via vi faccio notare come gli edifici residenziali non sono trascurabili quindi in teoria un programma di crescita dell'efficienza energetica nel patrimonio edilizio ha un suo perché in termini di riduzione di gas climalteranti quindi è abbastanza articolato come tema ma quello che è abbastanza inquietante è che se guardiamo il nostro sistema energetico noi siamo in crescita lo vedete da questi dati no? cioè voi vedete con chiarezza che in questo momento il carbone è sostanzialmente cresciuto a livello mondiale quindi c'è molto da fare quindi due cose sembrano evidenti il primo è che l'energia cresce senza tregua e questo è dovuto anche agli incrementi demografici ma il secondo è che se guardiamo anche in termini di proporzione non è cambiato granché e questo è un dato che deve preoccuparci ora possiamo vederla anche in altri termini ma è un dato equalmente inquietante nei primi del novecento sostanzialmente moltissimo era biomassa e idroelettrico qua vedete tutti i simboletti di riferimento le rinnovabili del novecento sostanzialmente erano esistenti le biomasse incidevano abbastanza e poi avevamo altri componenti a cominciare dal coll e così via al carbone e così via nel 1950 questi scenari che vedete qua sostanzialmente non sono molto diversificati adesso abbiamo una componente abbastanza diversificata ma ma come vedete la crescita nei consumi dell'energia è veramente impressionante passiamo da questo dato a questo e mi pare che sia molto significativa e quindi se nel 1900 il carbone incideva molto come sembra da questo grafico abbastanza evidente però l'entità complessiva era molto contenuta adesso il carbone non è circa la metà come nel novecento ma evidentemente ha una consistenza tale di generare un grandissimo quantitativo di gas e creme alteranti quindi lo scenario è particolarmente complesso e bisognerà lavorarci ora prevalentemente fino ad ora ho dato cattive notizie chiedo venia per questo lungi da me volere fare diciamo avere un atteggiamento scatologico la buona notizia è che però se pensiamo a una riconversione ecologica del sistema possiamo pensare ad un incremento globale di circa 15 milioni di posti di lavoro nel settore dell'energia e questo in relazione alla spinta dell'innovazione mirata alla decarbonizzazione questo è un dato molto interessante molto significativo per cui se è vero da un lato che perderemo posti di lavoro è anche vero che molti altri ne guadagneremo ed è questa la sfida farci trovare pronti con l'innovazione tecnologica il carbone dovrebbe iniziare a decrescere anche se vi sono realtà pensate per esempio che l'India è stata tra le più fiere avversarie del face out del carbone per evidenti motivi però è chiaro che riveste ancora oggi un ruolo molto importante a livello globale e l'altra questione è che quando parliamo di riconversione dell'economia basta guardare tutti questi oggetti che vedete nelle slide praticamente sono tutti oggetti ottenuti dal petrolio quindi riconvertire l'economia vuol dire ripensare a questi oggetti in maniera più naturale ma questo vuol dire disporre anche di un grandissimo quantitativo di biomasse se l'entità del consumo permanesse questa e quindi evidentemente il concetto di economia circolare è cruciale perché il recupero di masse da materia prima seconda diviene importantissimo quindi questa è la scommessa che dobbiamo porre in essere ed è una scommessa di proporzioni veramente particolari e di grandissime entità ora riconvertire l'energia vuol dire anche avere grandi necessità di materie diverse pensate a quello che c'è nelle batterie le materie prime critiche i sistemi di accumulo diciamo è una lunga storia e quindi vedete proprio come alcuni aspetti sono veramente fondamentali per alcune forme di energia guardate per esempio il wind power come ha bisogno di tante materie prime diverse anzi si dice che la riconversione eco orientata dei modelli energetici avrà bisogno di apporti di materia decisamente più robusti del modello energetico fondato sulle fonti fossili e quindi questa è un'altra delle scommesse su cui bisognerà lavorare ma ancora più tra virgolette inquietante è la disponibilità di queste materie che spesso è localizzata in zona del pianeta sono caratterizzate da una fortissima instabilità geopolitica e questo pone dei rischi seri di approvvigionamento l'altra questione ne parlavo prima quando parlavo di back reshoring è che attualmente tutto è polarizzato in Cina noi dipendiamo dalla Cina moltissimo qua ci sono le percentuali se guardiamo l'offshore wind towers quindi torri eoliche offshore ma anche sempre parlando di energia eolica e così via scusate ci rendiamo conto che le batterie per esempio tutte in Cina questo è il resto del mondo gli anodi i catodi i fafer di Siricio cioè la Cina polarizza la produzione e questo evidentemente è un tema di dipendenza che pone non pochi problemi anche alla luce del nuovo contesto geopolitico verso il quale pare stiamo andando con i venti di guerra molto particolari che speriamo a breve cesseranno comunque ispireranno con minore intensità la guerra russo-icraina certamente ha innescato un'elevatissima accelerazione nelle tecnologie alternative c'è stata infatti una fortissima crescita dei prezzi della materie prime causata anche da un forte elemento speculativo ha detto e al di là di tutto e lo dico da fisico-tecnico energetico noi non dobbiamo mai dimenticare che l'importanza dell'efficienza energetica è cruciale in qualunque sistema e in particolare in un sistema energetico moderno per cui quello che è definito negavatt cioè la possibilità di utilizzare meno energia utilizzarla in maniera appropriata è evidentemente importantissimo questo grafico mostra diciamo con chiarezza le percentuali di perdita questo vale anche per esempio nel sistema nelle catene trofiche diciamo perdiamo molto e noi dobbiamo avere consapevolezza quindi in questo sistema tra virgolette moderno ci sono quattro D cruciali uno è quello della conversione digitale fondamentale digitalizzazione un altro è quello del decremento nei consumi dell'energia la seconda D il terzo è quello di una forte energia distribuita che è quello che sta accadendo tutti ormai possono produrre energia ma lo cito per ultimo ma non cert'ultimo in ordine di importanza il tema della decarbonizzazione decarbonizzazione che non va vista solo durante la cosiddetta operation phase cioè quando consumo l'energia ma va vista anche quando guardo alle tecnologie energetiche e sistemi energetici lungo l'intero ciclo di vita cioè rendendo più ecocompatibili e a ridotto impatto ambientale i sistemi e le tecnologie che producono energia da fonte rinnovabile pensando anche a cosa accadrà al momento della dismissione al momento del fine vita e l'end of life come si dice ponendosi un serio problema di recupero e riciclo di questo grandissimo montare di merci peraltro spesso di grande valore questi sono alcuni dati che mostrano anche come la digitalizzazione ha un impatto energetico clamoroso perché il raffreddamento di questi sistemi non a caso sono spesso ubicati nei posti particolarmente freddi per contenere consumi energetici questo è una chiara indicazione di come lo smart building soprattutto gli edifici pubblici può contribuire in maniera significativa all'espermia l'energia io dico sempre che quando sei a casa tua puoi gestire anche perché hai un interesse diretto un forte coinvolgimento diciamo l'energia in maniera domestica quando hai grandi edifici e grandi realtà lo smart building puoi aiutare in maniera molto significativa certamente di più che nel residenziale di casa propria la digitalizzazione è un percorso importante un miliardo di households e undici miliardi di smart appliances è un numero che da solo mostra quanto è importante la digitalizzazione quando la sarà ancora di più ma questo ci può aiutare a divenire più intelligenti e quindi gestire in maniera più appropriata l'energia accrescendo la flessibilità per cui la casa soprattutto pensiamo alle case diciamo isolate produce energia l'accumula alimenta la macchina elettrica la usa l'accumula nei momenti in cui non serve la impiega nel momento in cui serve e così via quindi diciamo anche una nuova efficienza tecnologica orientata da principi di ecodesign e di efficienza energetica ambientale tutto questo può significativamente contribuire a risparmiare anche energia come si vede da questa slide e soprattutto evitare i cosiddetti fenomeni di curtailment ciò di queste energie cioè far sì che l'energia generata viene impiegata poi dipende da mille motivi da sistemi di accumulo da equilibri frequenze caratteristiche del sistema elettrico sono tante le cose che entrano in gioco ma certamente grazie a un sistema intelligente di gestione molti dei problemi possono essere superati c'è un problema serio di gestione della privacy infatti non a caso menziono la blockchain perché questi dati chi li gestisce chi li usa e quindi la blockchain può aiutare a facilitare il peer to peer la vendita peer to peer dell'elettricità all'interno delle comunità energetiche locali questo è un altro aspetto molto importante questo è un grafico una slide dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che mostra come guardando ai cosiddetti clean energy progress cioè progressi dell'energia pulita è una slide di qualche anno fa c'è moltissimo da fare il semaforo rosso riguarda ancora moltissimi degli edifici come vedete i verdi sono veramente pochi c'è tantissimo da fare e il tempo che rimane non è moltissimo qua volevo fare vedere ma a questo punto mi fermerei qua perché diciamo sono andato oltre 45 minuti tutta la questione dei gruppi di edifici dei cluster di edifici dei distretti a energia netta zero anche di più e questo dà un'idea anche dell'intensità energetica a scala globale guardate cos'è dell'Africa ancora e guardate quindi se cosa potrebbe accadere se il pianeta africano consumasse la stregua di quello che consumiamo noi proviamo a immaginarlo e questi sono temi che si sono aperti in questo periodo la città dei 15 minuti quella all'interno della quale in 15 minuti devo poter trovare tutto evidentemente questo mette in crisi anche i modelli dei superstore dei centri commerciali e si torna ai negozi di prossimità quindi molte questioni aperte che sono attualmente in corso di discussioni così come questa slide e naturalmente questo era quello che vi dicevo prima che ormai non basta guardare più alla fase di gestione di un servizio di un sistema di un oggetto perché oramai l'energia incorporata nei materiali cioè quella che io ho utilizzato per generarli diviene paragonabile a quella che io uso durante la fase di ciclo di vita e quindi lavorare affinché questi materiali abbiano un ridotto impatto ambientale e una ridotta impronta ambientale diviene particolarmente significativo questo è un esempio di gruppo di edifici di energia positiva con le mille interazioni che entrano in gioco quindi c'è un problema di autonomia c'è un problema di generazione di energie rinnovabili c'è un problema di accumulo c'è un problema di storage termico c'è un problema di bioenergie cioè l'idea è che i sistemi divendano complessi con l'obiettivo di far sì che quel gruppo di edifici possa generare più energia di quella che consuma e su questo tra l'altro sono attivi tantissimi gruppi di ricerca sia a livello europeo che a livello internazionale cito ad esempio l'annex 83 dell'agenzia internazionale dell'energia che si chiama per l'appunto positive energy districts cioè quartiere di energia cioè quartiere di edifici di energia di energia positiva che peraltro è diretta da un mio collega di Palermo questa è la città dei 15 minuti dove tutto deve essere di prossimità e dove vedete si iniziano ad introdurre concetti importanti share reuse stock up take care of your health stay active mangia in maniera sana apprendi lavora cioè una città che sia più compatta nella sua gestione ma anche più salutare e questo è un concetto di cui ho già parlato cioè il passaggio da un'economia lineare che poi è quella che ha creato i guasti di cui a lungo siamo stati a parlare a un'economia circolare nel quale ripeto si parte dalle materie prime e dal progetto di materie energie e quant'altro poi si va alla produzione alla distribuzione per giungere alla fine al recycling che come vedete è l'ultimo anello del modello di economia circolare questi sono alcuni esempi che potete poi agevolmente leggere e naturalmente c'è questo forte problema del risparmio energetico che non dobbiamo mai scordare quindi privilegiare appliances che consumano molto meno ma poi cercare anche di condividerle proprio oggi veniva fuori questa idea che in pratica i trapani di cui tutti possediamo mediamente li usiamo 15 minuti l'anno forse è giunto il momento di ripensare anche alla condivisione degli equipamenti e così via io mi fermerei qua questi sono i miei riferimenti sia la mail che il sito web del centro di sostenibilità insomma questo è un po' quello che volevo raccontarvi mi fermo qua per eventualmente aprire il dibattito grazie grazie mille professore l'esposizione è assolutamente molto chiara e completa direi ricordo a tutti che se avete delle domande vi potete prenotare nella chat è un tema molto molto attuale ne parliamo soprattutto chi abita nelle grandi città noi appunto per la maggior parte ma presenti gravitiamo sulla città metropolitana di Milano che diciamo in questi ultimi anni sta cercando di sperimentare un po' di azioni di questo tipo quando lei parlava della città 15 minuti mi è venuto in mente che soprattutto negli ultimi tre anni più o meno c'è stato un grande battaggio su questo che poi non so se si sta traducendo in realtà o meno però c'è probabilmente da parte delle amministrazioni pubbliche inizia a esserci un po' più di consapevolezza su dove stiamo andando anche rispetto agli obiettivi appunto poi internazionali che ci si pone io volevo fare una domanda rispetto appunto ai grandi cambiamenti soprattutto dei mezzi che noi utilizziamo soprattutto con la pandemia si è un po' come dire posta l'attenzione sulla transizione energetica ad esempio delle automobili quindi del settore diciamo dei trasporti e abbiamo visto tante aziende automobilistiche produttrici che hanno iniziato a cambiare i loro schemi di produzione quindi ad avere degli obiettivi di costruzione di automobile che vanno a energia elettrica quindi sostituzione del parco auto chiamiamolo così di offerta e proprio su questo io volevo chiedere secondo lei si sta attuando una transizione tecnologica che va a come dire a ridurre effettivamente l'inquinamento oppure no faccio questa domanda nel senso legata a quello di cui accennava prima cioè quanto costruire un macchinario in questo caso un'automobile a risparmio energetico ci costa di energia cioè secondo lei il settore privato soprattutto su questo sul settore dell'automotive sta semplicemente occupandosi di occupare quote di mercato in maniera molto come dire speculativa oppure ha una una visione responsabile di questo allora guardi lei mi fa una domanda complessa nel senso che è difficile dare una risposta io non amo ci sono situazioni come dire a domande complesse è difficile formulare risposte semplici sapendo che se lo fai sbagli quindi diciamo il problema è abbastanza articolato indubbiamente la riconversione elettrica del sistema mobilità sembra abbastanza interessante in termini di riduzione dell'impronta ambientale lì deve essere chiaro che se io uso energia elettrica proveniente da fonte fossile cioè per esempio energia elettrica proveniente dal mix energetico e la polonia che ancora oggi è fortemente dipendente dal carbone l'outcome come dire è molto più complesso dalla Norvegia che ormai è il 100% di energie rinnovabili quindi è molto importante il mix energetico dell'energia elettrica che impiego se l'energia elettrica viene da tecnologia alimentata da fonti rinnovabili studi sull'analisi ciclo di vita sembrano mostrare che la mobilità elettrica ha dei vantaggi poi ha dei vantaggi di prossimità locali perché evidentemente la mancata combustione vi renderete conto che migliora decisamente la qualità dell'aria della nostra città e questo è un altro fatto incontrovertibile il tema però che ogni volta costruisco qualcosa genera un impronte ambientale è altrettanto importante quindi andando al di là il punto è anche è questo l'unico modello produttivo che noi ci immaginiamo o possiamo pensare a quello che da più parti si chiama modello di riuso di manutenzione di allungamento della vita utile dei manufatti e così via questo per certi versi conflige un poco con un PIL che è fondato sempre sull'idea di una crescita senza tregua allora forse la crescita dovrebbe passare dalla nascita di nuovi manufatti a un'economia del riuso e la manutenzione che è un'altra delle cose di cui si parla quindi non ho una risposta univoca e penso che non ce l'abbia nessuno penso in realtà che in generale l'impronta energetica ambientale di manufatti e servizi a parità di funzione resa sia decisamente migliorando nel senso che una macchina negli anni 60 era molto più impattante di una macchina attuale però come dimostra la crescita e l'ho mostrato senza tregua di gas e cremo alteranti evidentemente questo miglioramento dell'impronta ambientale per unità di servizio reso non è bastevole perché nel frattempo sono cresciuti i consumi senza tregua e quindi forse il ripensamento di alcuni modelli andrebbe come dire compendiato tra le opzioni possibili spero di avere risposto in maniera non dica esaustiva ma certamente mostrando la complessità delle relazioni che sono in atto sì sì grazie no perché a volte viene quasi da pensare che ci si ci veniamo spinti tra virgolette nessuno ci spinge a dei consumi però veniamo spinti a sostituire il nostro parco macchine come utenti diciamo finale e non invece a ripensare a un proprio modello di di mobilità differente quindi il car sharing piuttosto che altri sistemi si sta ponendo un problema che è sentitissimo se uso la bici perché nel mondo in cui vivo posso campare tranquillo con la bici e quando raramente uso la macchina mi avvalgo del car sharing e indubbiamente riduco la mia impronta ambientale e questo evidentemente anche diciamo la macchina non diventa più uno status symbol sappiamo come nella cultura diciamo dell'opulenza di cui tutti siamo figli noi siamo lei un po' meno ma io certamente un baby boomer diciamo anni 60 lo status symbol era anche legato a quello che si possedeva quindi macchine più grandi case più grandi in questi anni recenti anche meno recenti si è aperto un grande dibattito penso per esempio agli scritti di Sergio Latouche quando parla di decrescita felice che evidentemente pone tantissimi altri problemi tant'è che è un modello che non ha attecchito però se uno legge di Sergio Latouche e le ragioni di Minerva si rende conto che questo capitalismo ha degli aspetti fortemente discutibili è un capitalismo rapace è un capitalismo che in questi anni ha accentuato le disuguaglianze e certamente un modello nel quale si accentuano le disuguaglianze prima o poi ti presenta il conto e la storia dell'uomo diciamo grazie Massimo ha scritto una domanda dice è possibile che i paesi in via di sviluppo utilizzino da subito dei sistemi di produzione meno inquinanti andando quindi ad avere un impatto climatico inferiore rispetto a quello stimato è la classica diatriba questo sarebbe auspicabile ma è legata alla dotazione finanziaria che i paesi più ricchi decideranno di investire come dovrebbe come dovrebbe essere cioè evidentemente ridurre un po' dei profitti per cercare di investire un po' di più in certi contesti nei fatti per ora spesso il trasferimento di produzione è legato allo scarso costo della mano d'opera e anche all'uso di tecnologie obsolete talvolta non sempre ma talvolta accade e questo è certamente un problema io anni fa i primi anni 2000 allora viaggiavo più spesso mi capitò di andare a Mumbai l'ex Bombay e francamente vedere il cielo grigio era colpiva moltissimo era pieno di ex 1100 Fiat degli anni 60 in Italia diciamo ci sono situazioni particolari però ripeto il tema della giustizia climatica intergenerazionale e giustizia climatica legata a evitare che coloro che meno hanno contribuito adesso hanno gli effetti più pesanti che è quello che sta accadendo questo è un tema che andrebbe considerato con grande attenzione grazie Luigi scrive una domanda irriverente posso chiederle se pensa che le attuali forze politiche siano all'altezza dei problemi che devono risolvere ma guardi io non non parlo mai di queste cose perché penso che la transizione ecologica non sia di destra e non sia di sinistra penso che a livello globale vi sia ancora oggi come dire una concentrazione di finanza c'è una finanza rapace che ancora oggi governa molti processi quindi la riconversione green anche di certa finanza potrebbe essere molto interessante ci sono segnali interessanti la tassonomia anche se poi ci sono sempre situazioni di compromesso e così via allora se devo dirvi diciamo rispetto a queste cose c'è un chiaro segnale di ottimismo che è legato a una nuova consapevolezza c'è anche il cambiamento però siano lenti troppo lenti per rispondere efficacemente alla sfida in atto e quindi e quindi vedremo insomma vedremo cosa succede ovviamente come tutti quelli che hanno figli giovani mi auguro che al più presto possiamo e non solo quelli che hanno figli giovani ma insomma tutti quelli che hanno un minimo di filantropia che si possa imboccare un percorso diverso che sia fuoriero di un modo di vivere come dire più rispettoso dei diritti di ciascuno e più rispettoso anche dei diritti di chi è nato da poco e di chi ancora non c'è di poter vivere alla stregua di chi li ha preceduti questa è un'altra cosa che mi è molto cara perché ci stiamo un po' cominciando diciamo è come se stessimo divorando il capitale naturale e chi verrà dopo di 9 anni avrà poco a disposizione direi che ci sono purtroppo tutti i segnali allarmante ovviamente poi Luigi finisce con una domanda retorica e dice non è che ora ci svegliamo dal sogno di Remida che alla fine scoprì che l'oro non si mangia beh questo però diciamo io sono anche molto fiducioso nei ragazzi cioè penso che la loro consapevolezza rispetto alle tematiche ambientali è completamente diversa rispetto alla nostra quindi non dobbiamo perdere la speranza dobbiamo lavorare affinché si possa dare un contributo semmai oggi siamo tutti baby boomer all'ascolto sarebbe stato più bello avere tanti giovani ma diciamo magari la prossima volta sì purtroppo i giovani iscritti sono un po' come dire latitanti perché avevamo qualche come in attesa della loro presenza una riflessione che mi veniva da fare è che forse una parte della della società pensa di potersi adattare ai cambiamenti climatici che si stanno aspettando nei prossimi anni c'è sempre stata questa come dire consapevolezza storica che l'uomo si è sempre adattato ai cambiamenti e quindi lei cosa ne pensa c'è secondo lei sentimento di scetticismo rispetto a un allarme che da parte comunque ormai viene lanciato prevale oppure sta cambiando un po' guardi anche lì è difficile dare una risposta le posso dire che qualche anno fa ho letto il libro di Diamond che devo dire un ricercatore che in maniera molto antesignana ha combinato con considerazione antropologica culturale tecnologica scritto quel libro che è una pietra miliare che si chiama armi accella e malattia che qualche anno dopo ha scritto anche collasso dove mostra tutta una serie di esempi di società che hanno avuto dei collassi dovuti a questioni ambientali l'isola di Pasqua per dirne anche molti altri certamente prima l'ecosistema ricettore pianeta Terra vista l'entità dei fenomeni di trasformazione in gioco non aveva grandi problemi magari c'erano i collassi locali e poi adesso la spinta delle trasformazioni antropiche è così intensa che ci dobbiamo porre un problema generale bisogna quindi rafforzare il principio della prudenza cioè non possiamo dire come ogni percorso complesso come si evolverà quando si evolverà con quale rapidità penso che nessuno in questo momento possa avere certezze diciamo che tutti i segnali però ci spingono a imboccare percorsi diversi se non altro per il principio di precauzione perché ormai i dubbi stanno divenendo e i messaggi globali stanno divenendo sempre più forti perché la distruzione di tanti ecosistemi la formidabile perdita di biodiversità l'atteggiamento rapazio quello che sta accadendo per esempio nella foresta e l'Amazonia è una cosa che dovrebbe fare riflettere tutti molti anni fa durante la conferenza di Rio del 92 la seconda che citavo in apertura della mia discussione tutti si rivolgevano al ministro dell'ambiente brasiliano dicendo ah voi siete il polmone del mondo e lui replicò fu storica questa replica dice sì ma molti di voi si scordano che abbiamo anche uno stomaco cioè lì il problema è anche capire che valore si attribuisce a queste tematiche aiutare certi paesi a imboccare anche un percorso di salvaguardia di preservare gli ecosistemi il rischio c'è ma insomma speriamo di cavarcela ma chiaramente cambiando moltissime cose cioè nessuno può pensare che se continuasse lo status quo e il business as usual diciamo non avremmo effetti cataclismatici perché questo ormai sembra evidente certo grazie le faccio una domanda invece più in casa nostra perché lei parlava appunto anche del tasso di inquinamento che viene prodotto dalle abitazioni della residenziale quindi come giudica ovviamente da tecnico la la sento male mi sente? sì ora si mi dica scusi no mi chiedevo come giudica da tecnico la manovra insomma lo strumento che ha adottato il nostro governo sulla riqualificazione dei nostri cioè dei nostri palazzi quindi il cosiddetto 110% la giudica una manovra che al netto di delle posizionamenti ovviamente politici eccetera eccetera che possa aver dato una mano comunque se resa strutturale possa dare una mano alla nostra al nostro ambiente oppure no andiamo per gradi certamente l'incidenza dei consumi energetici riconducibili al settore civile d'utenza è molto significativa e quindi anche l'emissione di costi prenoferanti è un pezzo importante per cui investire nell'efficientamento del patrimonio energetico edificato soprattutto quello più vecchio quello diciamo dal 1976 in giù perché ricordo che la prima legge su queste tematiche è se la memoria non mi inganna era 373 del 1976 prima nei fatti non c'era quindi tutto il patrimonio di prima non si era mai occupato di questioni energetiche e certamente lavorare sul vecchio patrimonio è importante i risultati beh lì bisognerà vedere cosa accadrà in questo settore in base agli investimenti resi quindi piuttosto che parlare con posizioni ideologiche io vedrei nei prossimi anni cosa è accaduto in termini di consumi energetici in rapporto agli investimenti finanziari sostenuti e quella sarà la vera prova se l'intervento è stato importante detto questo lavorare sul risparmio energetico è importante quindi di per sé come idea è buona il settore dell'edilizia è sempre trainante per una larga parte di piccole micro imprese che lavora in quel comparto forse avere elargito come dire avere erogato tutto così in fretta e con tale entità potrebbe essere stato un errore primo perché il sistema dopo anni di crisi profonda non era pronto a rispondere in maniera così rapida tant'è che chi ha ristrutturato casa in questo periodo e lo dico come dire con esperienza diretta ahimè diciamo si è trovato con una fortissima carenza proprio di imprese pronte a lavorare perché non c'erano più era tutto impegnato e poi l'altro tema ripeto vedremo i risultati inquietanti sono le frodi però anche lì vorrò capire quanto incideranno perché spesso diciamo ci sono annunci poi bisogna vedere la reale consistenza delle cose perché i numeri ci faranno vedere cioè se si farà un rapporto immagino che qualcuno ci sia già pensando dell'entità dell'investimento e dei risparmi energetici conseguiti in questi settori avremo una sorta di investimento specifico per unità di kilowattora risparmiato qualcosa di simile e potremo valutare se ne è falso la pena o meno per ora sicuramente è stato un grande volano per l'economia perché gran parte del PIL che è nato nel post pandemia è riconducibile a quello sforzo notevole quindi ha avuto anche degli aspetti positivi se ovviamente questo ha consentito di cambiare vecchi infissi con trasmittanza enorme con infissi moderni normalmente di buona qualità e così via calare i consumi questo ha delle refluenze anch'esse positive in un paese peraltro che fino ad oggi ha una grande dipendenza energetica ma per dare giudizi bisogna analizzare i fenomeni e analizzarli in maniera seria e osservare i trend ed i numeri ripeto diciamo questo poi è anche un problema diciamo che spesso hanno i politici politica dal respiro corto necessità di dare slogan rapidi e però spesso i fenomeni vanno studiati nel tempo come si avvolgono allora intanto legge volevo leggere il commento di Salvatore che dice secondo me bisogna andare alla fonte cioè come si genera l'energia come giustamente ha detto il professore in certi casi gioire del fatto che si usa energia elettrica piuttosto di energia termica diretta non basta non ci fa riflettere sul fatto che per generare un'energia elettrica abbiamo sfruttato una fonte non ecologica cioè il carbonio e poi dipende non è solo carbone talvolta è carbone sicuramente l'energia elettrica è un vettore come dire diciamo dipende come la fai come la ottieni ecco e invece Lorena voleva intervenire prego Lorena grazie mi sentite? sì sì prima di tutto ringrazio il professore per diciamo tutto quello che ha diciamo detto illustrato però io sono un po' scettica devo dirlo mi spiace magari starò la notta stonata perché anche io sono una baby boomer diciamo come lei si è definito professore e in questi anni vabbè io abito in Lombardia abito a Milano ho visto diverse richieste per una trasformazione non tanto energetica ma di prodotti che meno inquinanti c'è stato nell'arco della mia diciamo 30-40 anni un'evoluzione che ci ha portato spesso a cambiare prima Simona parlava delle auto mi viene in mente quando ci hanno tutti imposto di usare l'auto diesel e allora tutti cambiavamo poi ci hanno imposto il metano come la scelta migliore ora ci stanno imponendo direi a stretto giro perché gli obiettivi è 2030-2050 di andare tutto su un'energia su un sistema diciamo ecologicamente più pulito utilizzando dell'energia mi viene in mente l'altro ieri quando mi hanno sistemato la caldaia mi hanno detto se la cambia condensazione però nel 2030 poi dovrai usare una pompa di calore io sto parlando che sono adesso al 2030 mi mancano 5 anni e mi domando ma quanto facciamo dei bellissimi programmi perché voi studiate veramente tanto su fonti innovative e la ricerca dà veramente tanto di questo e quanto l'industria o i progetti della comunità europea stanno facendo per mettere dei fondi parliamo di macchine elettriche quanto poi l'utente ha la possibilità di utilizzare le macchine elettriche perché colonnine vorrebbe dire trasformare eliminare completamente tutti gli impianti che ci sono adesso dei benzinai cioè tutte le piccole cose odierne quanto questo cambiamento porterà negli anni perché non penso che sia fattibile nell'arco di 4 5 10 anni se penso che lei parlava della Norvegia che oramai è al 100% con un'energia con una transazione ecologica ultimata mi viene anche in mente che 15-20 anni fa se andavi in Danimarca vedevi già l'utilizzo di un'energia pulita cosa che invece noi siamo ben lontani perché noi abbiamo anche un processo se andiamo a mettere una pala per generare energia ci scontriamo con i verdi per l'impatto ambientale cioè ci sono troppe cose che non so fino a che punto con tutta la buona volontà e guardando il forturo e cercando di garantire veramente qualcosa di migliore si riuscirà veramente a fare la stessa raccolta della differenziata abbiamo già un'Italia che una parte magari l'ha iniziata dieci anni fa un'altra parte ancora adesso sta provando a utilizzare o adottare una raccolta di energia differenziata ecco è questo che mi mi lascia un po' scettica non tanto in quello che è il progetto ma quanto la realtà che si possa adottare nell'arco di 15-20 anni perché mi sembrano talmente vicini considerando il periodo già passato e le trasformazioni che ci sono state in questi anni guardi mi scusi e magari non so se sono stata chiaro o magari non vorrei vermi in difficoltà chiarissima però anche lì non è difficile rispondere indubbiamente quello che è accaduto in questi anni è caratterizzato da luce e ombre indubbiamente vi sono diverse velocità in varie parti del paese indubbiamente lo sforzo profuso per cercare di bilanciare le differenze tra varie parti del paese è stato insufficiente e un organismo funziona bene quando è bilanciato e questa è la natura e la storia che ce l'insegna per cui quando lei cita la raccolta differenziata si va dall'80% in Veneto ora posso anche sbagliarmi alcune zone della Sicilia che sono a malapena al 10% quindi vi sono forti differenze però l'Italia è anche un paese che nel campo dell'economia circolare è un'eccellenza ha un buon livello tecnologico ha una consapevolezza che cresce la sua manifattura anche nel post pandemia è molto migliorata si è digitalizzata in maniera significativa cioè mi sento di dire che ancora oggi questo paese rappresenta la seconda manifattura d'Europa ha una grandissima tradizione di artigianato e culturale quindi vedo anche tanti segni di speranza questo è un paese di grande creatività e se poi pensiamo al settore agroalimentare pensiamo veramente che facciamo scuola quindi tante cose non vanno e tante altre siamo eccellenze non penso che ci siano molti altri paesi in Europa che siano decisamente meglio di noi viaggiando mi sono reso conto che ci sono luci e ombre un po' dovunque d'altra parte mi chiedo cosa possiamo fare se non cercare di lavorare lacramente per migliorarci e imboccare questo percorso non abbiamo molte alternative ancora una volta usando le parole di altri penso che sia chiaro a tutti che non esiste un piano B quello è il pianeta e quindi abbiamo il dovere di fare il nostro meglio per cercare di migliorare le cose quindi non essendoci un piano B lì siamo e lì dobbiamo lavorare cerchiamo di fare il nostro meglio quindi condivido gran parte delle sue considerazioni molte delle sue preoccupazioni però quando non hai alternativa ti devi sbracciare le maniche e cercare di lavorare ed è quello che possiamo cercare di fare stasera siamo qua a discutere di questo in maniera come dire volontaria proprio perché crediamo nell'idea che divulgare disseminare far crescere consapevolezza lanciare messaggi di speranza serva anche a questo ed è quello che facciamo e cerchiamo di fare non ho molto altro da dirle non ho la lampada di vetro per capire cosa accadrà spero che tutto andrà per il meglio e certamente l'Italia nonostante le luci e le ombre è ancora oggi uno dei paesi più evoluti a livello mondiale che può e deve costituire un faro rispetto a molte altre realtà abbiamo il dovere di farlo perché comunque siamo all'avanguardia beh questa è una notizia molto positiva ma questo penso sia noto a tutti insomma insomma diciamo logicamente non siamo con l'anello al naso diciamo bisogna averne bisogna averne consapevolezza va bene guardi io la ringrazio veramente tanto per per questa esposizione per essersi messa a disposizione di noi se non ci sono altre domande io come dire libererei il professore ringraziandolo ancora per essere stato con noi sicuramente è un tema che dovrà essere approfondito diciamo anche su diversi da punti di vista diversi abbiamo già ad esempio trattato il tema anche della migrazione quindi che abbiamo visto anche nella sua presentazione che è collegata purtroppo ai cambiamenti climatici quindi diciamo rimaniamo sul pezzo anche noi per quello che possiamo interessandoci e cercando di attuare delle delle prassi anche sulle nostre abitudini che siano positive io la ringrazio ancora veramente tanto per essere stato con noi grazie a voi auguro speriamo io peraltro vabbè così giusto per cosa personale da domani sarò a Palermo per qualche giorno quindi magari chissà per strada potremo incontrarci buona permanenza grazie e buonanotte buona sera grazie 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 grazie